questa pizza sembra proprio deliziosa io adoro la pizza ehi aspettate mi ne voglio un pezzo anch'io avete organizzato una festa e non mi avete invitato me la pagherete per questo oh no è romeo è inventato qualcosa ma che cos'è questo è il mio raggio mutante ah ve lo faccio vedere io adesso vedremo se la prossima volta mi inviterete adesso si adesso si vedremo se mi inviterete ancora bella siete cercata guarda come brucia ciao a tutti io sono matteo e benvenuti oh ma la casa sta andando a fuoco romeo sei stato tu si sono stato io e guarda come brucia oh no bisogna fare qualcosa bisogna chiamare qualcuno ehi ehi pj musk dove siete gatto boi ehi non c'è nessuno ma dove saranno ma molto sospetto verde rosa e blu ma sono i colori dei pj musk avete sentito c'è qualcosa dentro queste torri oh grazie matteo grazie g Giusto Giacomo ma ma che ci fai qui? vieni fuori eh ehi ehi ma è qui quindi significa che il blu è Gatto boi oh grazie mille grazie mille mi hai salvato ehi ma la vostra casa, la vostra casa va a fuoco ah devo correre oh gatto boy finalmente si è arrivato oh bisogna fare in fretta oh devo spegnere il fuoco velocemente veloce veloce pronto tieni l'acqua ehi gatto boy cosa credi di fare adesso ti buco le ruote un po' qui un po' qui oh no romeo vuole distriggere le gomme gecko dacci una mano ho quasi fatto ho quasi liberato ce l'ho quasi quasi fatta grazie mille grazie mille ehi ma che è successo ottimo lavoro guffetta ma ha preso fuoco la macchina di Romeo adesso mi tocca spegnere sia la casa che la macchina di Romeo la mia macchina la mia macchina qualcuno mi aiuti a spegnere il fuoco della mia macchina ehi ci penso io ci penso io finalmente ho spento un incendio sì io ho spento il fuoco dalla macchina di Romeo oh no la mia macchina è tutta bruciata non ti preoccupare ci penso io a farti una bella macchina nuova la mia macchina la mia nuova macchina ah ah non è giusto non è giusto bella macchina Romeo può succedere beh ti è piaciuto questo video? allora ricordati di iscriverti al nostro canale mettere mi piace e noi ci vediamo presto ciao